Benvenuti in questa nuova Pausa Caffè, oggi vi voglio parlare di queste, ma prima Aldo Ricci presenta Pausa Caffè, Pausa Caffè Girano i dischi di Aldo Ricci Allora, io ho già fatto l'unboxing di queste cuffie perché le ho già provate Sono queste qua, vediamo se riesci a mettere a fuoco, eccole qua Sono delle cuffie della Aventry, come cacchio si chiamano, si scrive Aventry Vado a fare velocemente l'unboxing di quello che altro per farmi vedere che cosa c'è all'interno della confezione Anche se è molto semplice perché all'interno, oltre i libricini di istruzioni e la garanzia Abbiamo questa che è la confezione E dentro ci permette di avere cuffie, sistemate anche abbastanza bene E il cavo Quello che ci interessa però è questa È una cuffia, devo dire anche abbastanza economica E l'ho trovata interessante, questa mi è stata consigliata da Alfio Che è un mio amico ma anche un collega Che oltre ad essere utilizzata tramite mini jack Ha la possibilità di collegarsi tramite bluetooth Per chi fa montaggi video e sapete quanto è importante per me utilizzare delle cuffie quando faccio montaggi video Il desync audio video è una cosa fastidiosissima e non ci permette di lavorare Bene, queste cuffie usano un codec ATPX se non mi ricordo male Non vi voglio ricavolate quindi me lo vado a rileggere Dovrebbe essere un codec APTX Esatto, codec APTX Abbassa latenza Questo significa che potete montarci tranquillamente i vostri video Ma se non siete montatori, se non siete videomaker, sei un farmacista Ti potrai vedere tranquillamente i tuoi video Direttamente sul computer, sul cellulare Senza avere ritardi o desync Mi aspettavo veramente di peggio da queste cuffie In realtà, pregi, vado subito con i pregi Uno, padiglione Come sapete il padiglione è la cosa che reputo più importante per una cuffia Questo è un bel padiglione Ha questa spugna morbidissima Ovviamente questa non è della pelle Ha una spugna morbidissima E come sapete benissimo il test che faccio sempre è posizionarlo sull'orecchio Se copre tutto l'orecchio lo reputo interessante In questo caso copre tutto l'orecchio Quindi il padiglione è completamente coperto Non abbiamo il solito scatto che ci permette di andare a regolare la cuffia In questo caso abbiamo una corsa infinita E siamo noi a doverlo posizionare dove ci interessa La batteria di queste cuffie dura circa 40 ore in riproduzione Quindi devo dire di tutta nota E abbiamo tre semplici tasti su questo lato qua Abbiamo il più, meno e il tasto centrale che è play, pausa e anche risposta per il telefono Sì, perché hanno un microfono Che vedete qua sotto Sulla parte bassa della cuffia E questo microfono vi permetterà tranquillamente di utilizzarle anche per fare conversazioni Qualche sera fa le ho utilizzate proprio durante una call Che ho iniziato qui in studio Poi l'ho contrata fuori e ho utilizzato queste durante la spesa Devo dire che hanno anche una discreta insonorizzazione verso l'esterno Non hanno un'insonorizzazione passi attiva Quindi non usano nessun tipo di strumento per diminuire o annullare completamente quello che è il suono che c'è all'esterno Ma per il costo che hanno Secondo me sono molto interessanti Cascano bene anche in testa come vedete Secondo me sono adatte a ogni tipo di capoccia Come si dice a Roma Sono molto leggere La parte sopra è davvero molto morbida Come vi ho detto la spugna che c'è nei padiglioni Esce in dotazione come vi ho detto prima il cavo mini jack Perché se volete usarlo col cavo potete usare tranquillamente con il cavo Quindi non avrete problemi di nessun genere Il costo mi sembra giusto per quello che è il tipo di cuffia Anzi pensavo molto peggio Perché costa forse 60 euro o giù di lì Comunque in descrizione trovate sempre tutti i link Tutte le cose che provo E questa per esempio l'avete consigliata voi e l'ho provata Basta Molto carina anche da vedere devo dire Per richiuderla basta portare a fine corsa I due padiglioni E andrete a riporla all'interno del contenitore Facile Rapida Indolore Cuffia Bluetooth Basta latenza Ci vediamo alla prossima Posa Caffè Mi raccomando iscriviti al canale Metti like al video E condividi Ciao Girano i dischi di Aldo Ricci Basta 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 Grazie.